Nelle scorse settimane i finanzieri della tenenza di Senigallia hanno arrestato un imprenditore di origine cinese per più reati di natura fiscale. Le attività costituiscono l'ultima tranche dell'operazione Domino, che ha già permesso alle fiamme gialle di individuare una vasta e complessa frode ai danni dell'erario e degli enti previdenziali. Il settore nel mirino è quello del confezionamento di prodotti tessili all'interno del distretto di Senigallia, Ostra Mondolfo. Erano già state denunciate 68 persone per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio. L'attività fraudolenta era commessa con la costituzione di 57 imprese gestite secondo il sistema Apri e Chiudi, create appositamente per omettere il pagamento delle imposte. Da ultimo i finanzieri hanno individuato un imprenditore, poi finito in manette, che aveva gestito 5 diverse ditte in 5 anni intestate ad altrettanti prestanome. Lo stratagemma era lo stesso. Con la chiusura delle aziende, una all'anno aveva omesso i versamenti dei debiti fiscali, accumulando una somma dovuta pari a oltre 1,7 milioni di euro. I militari hanno eseguito numerose perquisizioni durante gli orari notturni, mentre venivano confezionati i capi d'abbigliamento e hanno sequestrato auto, furgoni, attrezzature e la documentazione extra contabile. Nel corso dell'intervento sono stati scoperti anche sette lavoratori in nero. Un reato che ha comportato una maxi sanzione che può arrivare fino a un massimo di 75.600 euro. Dopo queste operazioni, l'imprenditore ha costituito una nuova ditta intestata ad un prestanome, trasferendo la sede nella provincia di Pesaro e Urbino, operando ancora una volta con gli stessi dipendenti, gli stessi clienti e i medesimi fornitori. In base a quanto emerso, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha disposto a suo carico la misura degli arresti domiciliari ed esteso ai 5 prestanome il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei loro beni. I militari hanno poi sequestrato le disponibilità sui conti correnti dell'indagato, crediti presso terzi, un appartamento a Bologna, oltre a 4 veicoli e a 133 macchinari per cucire.